Buongiorno a tutti, qui Erdo Inoschenato da Airforex.com e come ogni sabato anche oggi parliamo di euro-dollaro sempre in ottica di breve termine. Prima di iniziare, come al solito, vi dico di iscrivervi a questo canale se ancora non siete iscritti perché così potete seguire tutti i vari video che facciamo formativi del trading sul Forex e di lasciare un mi piace se il video vi piacerà e vi potrà dare un supporto nel vostro approccio all'euro-dollaro. Iniziamo subito, visto che ormai è un appuntamento settimanale, diciamo che la view l'avete vista, per me è sempre una view di breve termine, quindi vorrei così condividere con voi qual è il mio pensiero rispetto ai possibili movimenti di euro-dollaro per la prossima settimana. Quindi proprio nel breve termine. Guardate, io l'avevo già un po' detta questa cosa in svariate situazioni, l'euro-dollaro va visto in questo momento come un mercato che è shortabile, cioè da vendere e da comprare in base a quella che è un po' la price action di breve termine. In questo momento quello che è avvenuto è sicuramente un movimento molto repentino verso il basso nelle ultime settimane, eccolo qua. Questa settimana che andremo a vivere sarà l'ultima settimana di giugno, quindi dovremo capire un po' anche come chiuderà il mese, poi settimana prossima magari se farò un altro video relativo all'euro lo vedremo. E quindi potrebbe essere un mese, come potete notare, pesante per l'euro, cioè un mese che potrebbe chiudere comunque abbastanza negativo. Ma adesso è un po' troppo presto per andare a parlare di questo. Ma quello che voglio farvi vedere è proprio, guardate, negli ultimi mesi il mercato è rimasto praticamente inglobato in due aree di prezzo, principalmente diciamo tra area 1.17.5 e 1.22.5. Questa è la zona. Quindi al momento non ci sono cambiamenti da questo punto di vista. Nelle ultime settimane c'è stato anzi una price action con massimi arrotondati che ha portato giù il prezzo. E questa settimana appena passata, vedete, si forma una inside week con una chiusura quasi sui massimi di settimana, sicuramente non con una grandissima volatilità, ma che recupera in chiusura quest'area 1.19 che reputo importante. Quindi nel breve termine quello che mi sembra più possibile da andare a seguire, adesso vi dirò come lo farò, è quello di vedere un movimento nuovamente magari verso l'area 1.19, 1.18 e 1.90 per poi andare verso questa zona che è diciamo la zona 1.20 e 1.50, io dico anche 1.20, ok? La zona che passa tra 1.20 e 1.20 e 1.20.50. Credo abbastanza possibile che prima di un possibile, se ci sarà, movimento ribassista verso l'1.17.5, credo che potrà avvenire nel breve questo movimento, ci possa essere un recupero verso 1.20, 1.20 e 1.50. Lo si nota anche proprio della price action si è formata, spesso un movimento così importante recuperato, seppur con una narrow range inside, quindi una compressione a bassa volatilità rispetto alla volatilità precedente, insomma è più facile che, visto anche lo strumento, possa portare a un movimento verso l'alto, non enorme ma che può avere quei 70, 80, 100 pips dai livelli attuali. Guardiamo anche il daily perché il weekly mi sta dicendo questo e così vediamo anche il daily che tipo di dinamica sta facendo e ha fatto. Allora, aspettate un attimo che qua mi crea la doppia barra. Oh, adesso è giusto. Eccolo qua, guardate un po', vedete? Questo qui è il daily, questo qui è il weekly, oh benissimo, quindi si è creato, guardate, lunedì questo tipo di chiusura sopra, poi martedì chiusura sopra, mercoledì, giovedì, venerdì. Quindi praticamente è successo che negli ultimi, guardate, prendiamo questo è il daily, questo è il weekly, così abbiamo sempre in mente che cosa avviene sul settimanale. C'è stata una tenuta, una tenuta di questa zona, 1.19, con però dall'altra parte delle spike. Rialzo, questa in realtà è anche un inside fake out, nel mio modo di intendere, alcuni trigger, quindi un fake out, però non è un fake out importante se ci pensate, cioè non è che fake a chissà che cosa, cioè fa un massimo un po' più alto di un inside, ma non è su un'area chiave, stiamo parlando di un trigger che sinceramente non andrei a vendere, insomma, vedendo anche un po' il settimanale, come sta, che cosa ha fatto, no? Quindi quello che ci potremmo aspettare, diciamo, potrebbe essere un ritorno, ritorno, quindi un ribasso subito nelle prime ore della giornata, quindi comunque lunedì, me lo aspetterei già lunedì o martedì, un movimento sotto 1.19 addirittura, quindi un movimento ulteriormente sotto 1.19, e noi li dovremmo capire, perché io credo che non ci sia ancora la possibilità di andare molto al di sotto di questo subito, ma che ci sia quello che vi dicevo prima, cioè un ritorno verso l'area 1.19, 1.18 e 1.90, per poi farsi il giretto verso 1.20, 1.20 e 1.50, 1.20 e 1.50 diventa un bel livello, anche da un punto di vista proprio di percentuale, proprio di ritracciamento naturale, oltre ad essere un livello dei miei è area 50% di tutto il movimento ribassista, quindi un ritorno circa alla metà del grande ribasso che c'è stato due settimane fa, nelle ultime settimane più che altro che due settimane fa è stato solo questo, ma in realtà è tutta una serie di situazioni di movimento. Quindi in questo caso quest'area può diventare interessante. Quindi quello che voglio dire è che sulla giornaliero mi fa dire, guardando la price action, e io sono un profondo studioso di questi movimenti che fa, cerco di da tanti anni capire le dinamiche, cosa possono dirci poi nei prossimi giorni, e questa cosa mi sta indicando magari un po' più di debolezza, ma vista la struttura e quello che abbiamo detto sul weekly, credo non ci sia ancora la possibilità di andare subito a rompere questo livello, per poi fare magari una cosa di questo tipo. Andiamo a vedere anche qui, nel caso in cui questo diventi uno swing, ecco qua, vedete per esempio la zona 61.8, uno 18.96, uno 18.90, può diventare la zona di storno, 18.90, per poi andare verso di là. Nel caso in cui invece, quindi io non è che voglio fare adesso quello che prevede il futuro, assolutamente, faccio trading, quindi sicuramente non è questo il mio compito, il mio compito è cercare di afferrare i movimenti, e gestire più che altro perdite e profitti, però ho una view, quindi questo potrebbe essere quello che, diciamo da un punto di vista operativo, mi piacerebbe di più, vedendo la price action ovviamente di questi grafici, e potrei anche pensare di fare un'operatività di breve, con un long appena sotto, sopra, 1.19 con un obiettivo 1.20, 1.20.50, quindi obiettivo di breve termine. Ma nel caso in cui ci possa essere, ci sono due casi, che il mercato o continui subito su, e vada verso questa zona, senza fare un movimento prima verso il basso, e allora a quel punto questa zona diventerebbe una zona da vendere invece, quindi, visto che comunque l'analisi è di breve, ci potrebbe essere l'idea che, nel caso in cui lo faccia entro mercoledì, non lo so, martedì, giovedì, allora questo può diventare un bel punto, dove nel caso in cui ci saranno dei trigger, del mio piano operativo, per shortare, quindi una certa informazione, dei prezzi, che mi mostra, indebolimento, vendite da sopra, e difficoltà, quindi nel continuare al rialzo, potrei pensare anche di, fare delle vendite da questa zona, per andare più verso il basso. Oppure, potrebbe succedere che, quello che ho detto, cioè, il movimento verso il basso, eccolo qua, non si fermi, a 1.18 e 90, quello che sarà, 19, ma che continui, a quel punto, quella cosa lì, non l'andrò a tradare, quindi che da qui, non vada a rompere i massimi, vada direttamente giù, può avvenire assolutamente, a quel punto, non lo so, difficilmente, potrebbe anche essere, che riesca a fare qualcosa, ma, a quel punto, vediamo un po' che succede, quando è che potrei, forse, in questo caso, operare, ma, potrei operare su euro dollaro, in questo caso, nel momento in cui, l'euro dollaro, per esempio, già lunedì, vada a chiarirmi, ovviamente, in end of day, quindi a fine giornata, una barra rossa, con, quindi una giornata molto negativa, con close, al di sotto, dei 18 e 90, che a quel punto, formerebbe, un FTV power, nel mio piano operativo, quindi una, uno dei miei trigger, in questo caso short, allora, a quel punto, sempre nel breve, potremmo pensare, di farci, una vendita, sempre con obiettivo, di breve termine, qui stiamo sempre parlando, di qualche giorno, perché, l'euro dollaro può, ha dei livelli molto, vicini in questo momento, importanti, sia di supporto, sia di resistenza, sia psicologici, tondi, con una tendenza, che come vedete, non è una vera, propria tendenza, c'è una lateralità, come dicevamo prima, tra 1,1750, e 1,2250, quindi, siamo nella parte bassa, vicini alla parte bassa, e quindi qui, se si dovesse creare, una cosa così subito, lunedì, quindi, per martedì, potrei pensare, di fare una shortata, verso il basso, ed andare a prendermi, 17,5, queste sono un po', le idee operative, sull'euro, sinceramente, io ovviamente, quando mi faccio, il mio problema operativo, che ovviamente, lo faccio anche, su qualche altra coppia, di valute, principalmente l'oro, queste sono un po', e l'S&P 500, diciamo, questi sono un po', i mercati che seguo di più, quindi, anche per chi, magari vede, quasi per la prima volta, i miei video, io lavoro principalmente, su euro, sterlina, euro dollaro, sterlina dollaro, dollaro yen, Australia dollaro, dollaro a Canada, e poi, qualche volta, in base a, avendo conoscendo bene questi, perché li seguo costantemente, può essere, che ci sia la possibilità, attraverso l'utilizzo, della correlazione matematica, magari, di andare, per esempio, su un euro yen, o su una sterlina yen, o su un euro sterlina, principalmente, non vado tanto su altri cross, quindi cerco di mantenere, non troppe, coppie di valute, ok, nella mia, nella mia cosa, e poi l'oro, sicuramente, anche se non lo trado moltissimo, però mi, mi aiuta a capire un po', anche la forza, e la debolezza di questo, sul dollaro, e mi è molto, importante, da un punto di vista, di correlazione, e l'SP500, ce l'ho sempre anche lì, come termometro, non lo trado tantissimo, anzi, non lo trado molto, quest'anno, per esempio, non ho fatto un trade, ma forse l'anno scorso, ce l'ho fatto uno, diciamo che trado principalmente le valute, ma questi due strumenti, oro e S&P, li guardo, perché mi danno comunque, qualche spunto, anche da un punto di vista, proprio, del termometro, un po' di quello che, sta facendo il mercato, a livello globale, e, quindi, l'euro lo conosco bene, l'euro lo faccio sempre, e, in questo caso specifico, direi che, come faccio appunto, sulle altre valute, il mio pieno operativo è questo, quindi ho, ho queste chance, diciamo, queste, queste valutazioni da fare, in base appunto, a questo programma operativo, quindi riassumendo, diciamo che, la price action sul weekly, mi sta indicando, principalmente, la possibilità che il mercato, questo è il daily, così lo capite, e lo vedete bene, possa fare, dapprima così, da qui, se dovesse dare, su daily, un input long, potrei pensare anche, di prenderlo, con obiettivo, diciamo, l'area 20 e mezzo, 1,20, 1,20 e mezzo, questa può essere, una buona idea, direi, ottimale, per il tipo di struttura, ma, ovviamente, il mercato non fa sempre, quello che noi pensiamo, possa essere, l'idea più interessante, per noi, nel caso in cui, dovesse, andare, invece, a creare, subito, un movimento long, quindi, da qui parte, va verso l'alto, subito, i primi due giorni, quindi, in uno, due giorni, arriva qua, e poi, magari, mercoledì, ci fa, una price action, di un certo tipo, short, mi dà un'informazione, short, a quel punto, peserei la situazione, ovviamente, non è che entro, mi bendo, entro, perché, no, comunque, analizzerei la situazione, anche sulle altre coppie, avritte col dollaro, capire un attimo, il peso che ha, magari il dollaro, su quella, in quella situazione, e in quel momento, andrei poi, a magari, vendere, quindi, potrei essere venditore di euro, con obiettivi, magari, non troppo, di lungo termine, per esempio, uno di questi, potrebbe essere, la parte di minimo, o addirittura, 17,5, nel caso in cui, quindi, salga, o scenda subito forte, quindi, scende così, boom, è difficile che, in una giornata, questo da qui, vada qui, poi, può anche succedere, è già successo, però, siamo sull'euro dollaro, non è che siamo su, un titolo, una criptoazienda, e quindi, a me piace chiamarle criptoazienda, non sono criptovalute, in realtà, sono criptoprogetti, criptoazienda, perché la valuta è tutt'altro, no, rispetto a quello che è, tutta la natura, di una criptoazienda, quindi, non ha quei movimenti, del 20%, questo, metti che l'euro, possa fare, non so, un movimento del genere, quindi, se dovesse chiudere, al di sotto, di questi 18,90, in maniera chiara, formerebbe un metrigger, potrei pensare, di fare uno short, di breve, come primo obiettivo, 17,5, questo potrebbe essere, un obiettivo importante, tra l'altro, al 17,5, poi potrebbero arrivare, i compratori, veramente qui, pesanti, perché, qui può diventare, interessante, poi ricomprare euro, però, questo poi lo rivedremo, magari, se farò altri video, sull'euro di sabato, non è, per forza, un'abitudine, però, al momento, mi piace fare, questo recap, che mi aiuta, anche a me, e, e vi fa capire, a voi, come io, in modo molto semplice, e in modo molto pulito, vado ad analizzare il mercato, per poi operarci, non ci sono trucchi, non ci sono trucchi, nel trading, non c'è una formula magica, ok ragazzi, quindi, allora, questo, oppure, questo, oppure, questo, che sarebbe questo, per poi vendere, queste sono, diciamo, le situazioni, che probabilmente, potrebbero essere, più interessanti, nelle quali operare, quindi, vedete, ho una idea, sia long, che short, su questo mercato, in base a quello, che potrebbe essere, il tipo di, di situazione, diciamo, che per il tipo di dinamica, guardiamo, anche nell'ultimo periodo, no? dopo il forte, se voi andate a prendere, dopo il forte sell off, per esempio, sono state due situazioni, dove, la volatilità è rientrata, ma non in maniera, fortissima, tipo così, e sono state, questa, guardate, questa barra qui, dopo il grande sell off, questa, non era un inside, ma per farvi capire, che non ha mai rotto al rialzo, è data giù, creando poi, un movimento di recupero, e questa qui anche, perché anche questa, nel grande ribasso, c'è stato qui, poi ha fatto così, quindi, in linea di generale, potrebbe anche avvenire, una cosa di questo tipo, cioè, il mercato, crea, pam 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 pam, questa cosa qui, per poi magari andare a 17 e mezzo, ecco quella cosa che vi dicevo, che allora si può vendere qui, con un obiettivo buono, bello, forse, quello che potrebbe dare di più, quindi, diciamo che, spero di essere stato abbastanza chiaro, ho questa view, tridimensionale, sull'euro dollar, cioè, con 3, 4 possibilità, che possa fare l'euro dollar, e cosa, se dovesse fare quelle cose, io potrei andare a fare, ovviamente dipenderà, però, nel caso in cui, ci saranno questo tipo di dinamiche, che io ho provato a leggere, su questo grafico, quindi, è quello che io chiamo, il programma operativo, cioè, mi preparo a fine settimana, un programma per la settimana, di quello che potrebbe fare l'euro, dollaro in questo caso, allora, lì diventerebbe interessante, perché, l'operatività, già pianificata, poi, ti apporta più sicurezza, nel momento in cui, tu vai a fare del trading, e hai degli obiettivi, che sono stati, diciamo, un po' più pianificati prima, e quindi hai anche più, sicurezza, per esempio, nel gestire la posizione, nel tenere, una posizione inutile, quindi, in profitto, o, non fare nulla, o fare in un certo, in un certo modo, va bene, quindi, spero di essere stato chiaro, spero che questo video, vi piaccia, ho visto che, questi video del sabato, dedicati all'euro, dollaro, sono assolutamente, molto, molto visualizzati, vedo che ci sono molti commenti, quindi, ecco perché, al sabato, sto continuando a fare, diciamo, questa, chiamiamola così, rubrica, sull'outlook, dell'euro, dollaro, a livello proprio operativo, ma non tanto da analista, ma da trader, per operarci su, quindi, lasciate un mi piace, se ovviamente, questo video, vi è piaciuto, commentate, parliamoci sui commenti, è bello poi, andare a, no, a darci un po', a dirci un po', le vostre view anche, che possono anche essere diverse dalla mia, sono ben accette assolutamente, poi ognuno, fa quello che deve fare, se, se volete altre cose, comunque, scriveteci, e, e basta, ecco, un'altra cosa, condividete, se questo video vi piace, con altri amici, che, a cui magari piace, tradare il forex, quindi, sono più appassionati, del mercato delle valute, nel fare trading, come noi, di Airforex, quindi, condividete questo video, cercate di spargere la voce, io, a questo punto, vi saluto, vi auguro, una buona giornata, anzi, un buon weekend, visto che è sabato, e ci vediamo ai prossimi video, un saluto a tutti, da Arduino, Airforex, ciao a tutti. Ciao a tutti.